che oggi non ce l'andiamo da qua se non ci danno un pezzo di carta in cui si scrivono date e soluzioni ovviamente a queste condizioni non possiamo più uscire non possiamo proprio andare a lavorare quindi devono per forza prendere un provvedimento che ci consenti per andare a lavorare riconsegnateci la nostra dignità e l'orgoglio di essere pescatori italiani potrebbe fare un contratto con un lungo termine che noi potremmo pagare il gasolio a 50 60 cente ma non è che noi vogliamo arricchire noi vogliamo solo lavorare noi non vogliamo niente dallo Stato che ogni giorno ogni ora abbiamo notizie in tutta Italia Lampedusa 1,32 e Morfetta 1,28 non riusciamo a guadagnare abbastanza né per pagare il gasolio né per pagare i marittimi Adesso riceveremo questi dati che abbiamo chiesto oggi alle marinerie dei dati certi appunto di consumo effettivo del gasolio in modo tale da poter capire in che modo e ovviamente la comunità europea ci deve autorizzare affinché alcune risorse possono essere utilizzate come risturo per i pescatori La politica deve risolvere i problemi delle persone persone che tra l'altro hanno contribuito e stanno contribuendo come dire al miglioramento della nostra società Spero che non sia un fatto speculativo Un fatto speculativo e quindi trovare ancora di più aumenti per la povera gente, per tutti Gli aumenti diciamo che sono anche in certa parte giustificati ma nella maggior parte dei casi è solo speculazione perché i grani e la macinazione i grani vengono fatti incontrati l'anno precedente Eccoci qua, sono gli Arcade Fire ad aprire la 142esima puntata dei Lavirinti Benvenuti di nuovo insieme, di nuovo in diretta di nuovo il racconto di un'altra settimana politica Mario Draghi lo ha detto, non è ancora un'economia di guerra ma dobbiamo prepararci e ci sono almeno due ministri che poi sono Cingolani e Patuanelli che dicono occhio perché una parte di quello che stiamo vedendo in questi giorni potrebbe avere un nome preciso, speculazione Oggi Union Camera dice che l'economia pugliese sta ripartendo lo fa lentamente, in maniera incerta ma lo fa con più imprese, più addetti del 2020 e in alcuni casi anche rispetto al 2019 ma sarà un rimbalzo ed è così anche per tutti perché ci sono le marinerie che si sono incontrate lo hanno fatto sull'onda del malessere, dei timori di chi ha lasciato la barca in porto lo fanno ripartendo a scartamento ridotto i pescherecci dell'Adriatico risalendo fino all'Emilia Romagna quelli del Tirreno rimarranno fermi almeno per le prossime 48 ore e nel frattempo si mette mano alla cassetta degli attrezzi lo fa la Puglia che potrebbe trovare 2 milioni e mezzo di euro su una misura del piano di sviluppo rurale ma conta di arrivare fino a 10 nel corso delle prossime ore come ci si arriva e nel frattempo che succede? intanto bentrovati, colpo d'occhio sul totale così salutiamo un pezzo di parterre all'esordio Cesare De Palma guida la sezione meccanica di Confindustria Baribat, bentrovato, grazie per essere con noi buonasera e grazie di avermi invitato e torna con noi anche Stefano Lacatena che guida gli azzurri di Via Gentile, bentrovato capogruppo buonasera altro capogruppo ma all'esordio è Saverio Tammacco del gruppo Perla Puglia, bentrovato buonasera a tutti ed allora ripartiamo dalle marinerie stato dell'arte, stavolta lo facciamo da Taranto con Gianmarco Sanzolino Gianmarco sì, buonasera Antonio, buonasera a tutti voi noi siamo in compagnia di un operatore del settore quindi una persona che in maniera diretta ci può raccontare qual è la situazione qui a Taranto lo ringrazio il signor Michele Tedesco della cooperativa Stella Maris buonasera e benvenuto su Antenna Sud buonasera allora intanto noi abbiamo scelto un luogo specifico siamo in Via Garibaldi, proprio l'affaccio con i pescherecci l'orario è tardo quindi si vede poco del bel mare su cui affaccia questo scorcio la parte bassa del borgo antico di Taranto però noi entriamo a gamba tesa nel tema in particolare voi con le vostre imbarcazioni siete fermi, tu ne comandi una? sì, un peschereggio, sì sono un comandante di un peschereggio e faccio parte della flotta peschereggio a Tarantina qui e niente, oramai qui i risultati non arrivano le famiglie stanno iniziando a indebolirsi sempre di più economicamente si arriva anche a momenti di esaspirazione se non si prende subito un provvedimento almeno per un ristoro, una boccata d'ossigeno perché con la giornata di oggi sono 8 giornate che non usciamo perché il carburante non ci consente di fare usciti assolutamente tener conto che un'imbarcazione, un motopesca in media consuma sulle 700-800 litri al giorno e calcolando che il prezzo ancora è a oltre un euro soltanto per fare un'uscita, una singola bordata ci vogliono minimo 700 euro di carburante non è sicuro che poi se si esce questi si riescano a ricavare dal mare insomma la spesa non vale l'impresa? No, assolutamente, se si esce si rischia anche di rimetterci perché non è sicuro, ripeto, che fare uscite in bordate singole andare a prendere il pesce ma non si sa come va perché il nostro è un lavoro molto diverso quando noi facciamo le cali non si sa se una cala va bene si può rompere una rete o qualcosa di attrezzatura in tal caso si perdono tante ore di lavoro e di conseguenza rimane un'altra cala per almeno portare le spese del carburante cioè parliamo del carburante poi se dobbiamo parlare anche del guadagnolo Tutte le altre spese? Non ne usciamo più Quali spese ci sono per chi opera in questo settore? Per fare un'uscita, una singola uscita in media ci vorranno almeno 8000 euro sopra gli 800 euro attualmente come sta la situazione Per esempio su un'imbarcazione come la vostra per far capire a chi è a casa e non ne sa nulla di questi aspetti di questi temi quante persone ci sono a bordo insomma quanto impegno anche c'è quante ore ci sono di lavoro? Dipende Noi abbiamo, siamo di piccola pesca noi abbiamo il limite massimo tra uscita ed entrata entro le 24 ore dalla comunicazione d'uscita alle comunicazioni d'entrata in queste 24 ore che poi non tutti fanno 24 ore ci sono barche che ci fanno 17, 15, 12 dipende ognuno sceglie il proprio metodo lavorativo in media ripeto per fare queste uscite adesso come sta il carburante un armatore deve considerare che deve a rientro deve almeno portare 1000 euro è una cosa assurda diciamo dirla perché non è sicuro si raggiungono queste cifre in base alle sue esperienze più o meno? quando ci sono dei mercati favorevoli sì ma non sempre ad esempio adesso non c'è un mercato buono e questo è ancora più problematico cercare di avventurarsi a fare questa uscita ma l'adesione a questa manifestazione che possiamo definire di protesta ma è sostanzialmente una necessità stare fermi per quello che abbiamo ascoltato da lei quanti aderiscono nel vostro settore? siete in tanti oppure c'è ancora qualcuno che prova ad uscire? la marineria di Taranto purtroppo è tutta compatta nessuno prende iniziative che vorrebbero uscire perché ripeto il rischio è altissimo qui non si tratta di uscire e andare a prendere i pesci si tratta di fare di fare conti con il gasolio che si deve pagare questo è il problema ricordiamo a chi ci segue che questo settore quello della pesca e della mitilicoltura Taranto impegna circa mille famiglie il nostro amico Michele è residente proprio in questa zona e c'è un'intera parte di questa città vecchia che vive proprio grazie al mare ed è questo il futuro che in molti immaginano per questa città adesso siamo in campagna elettorale quindi questi temi sono assolutamente di moda Antonio possiamo dire così però molto si parla di transizione ecologica come sappiamo anche a livello nazionale e qui a Taranto si vuole ritornare alla pesca come attività principale e poi naturalmente il turismo e tanto altro però è difficile se questi problemi restano e poi c'è da sottolineare che le accise e questi costi così esossi per i carburanti sono uno degli ultimi problemi ma in realtà ce ne sono tanti altri a partire dallo spostamento per i mitili ad esempio in un certo periodo dell'anno per un persunto rischio di inquinamento per una decisione regionale di qualche anno fa e non soltanto perché di recente ci sono stati anche degli aumenti per le concessioni anche se qui si parla di mitilicoltura quindi non riguarda il suo settore specificamente però ecco questo ci serve per completare il quadro lei che tutti i giorni vive sulla sua pelle questo lavoro e lo fa da quanti anni? beh sono trent'anni e passa trent'anni professionalmente venti anni quali soluzioni si potrebbero trovare? sono soluzioni difficili oppure si può semplicemente traguardare un risultato con poco? sicuramente la benzina deve scendere altrimenti è difficile e poi? la benzina deve scendere noi ripeto noi stiamo nelle mani del governo loro hanno la soluzione per tutto e la devono tirare fuori perché oramai come stiamo ben vedendo in Italia stiamo andando malissimo su tutti i settori non solo la pesca specialmente in agricoltura ma la pesca necessita di aiuti urgenti tempestivi direi perché ci sono molte famiglie in difficoltà e personalmente ne ho visto purtroppo anche gente, pescatori, miei colleghi piangere per questa situazione qui è drammatica guardate insomma vediamo anche lei è emozionato è chiaro che questo è un lavoro una passione molte volte si tratta di un mestiere tramandato dai genitori dai nonni e quindi si vuole semplicemente poter lavorare poter lavorare bene guadagnando non chissà che semplicemente guadagnando e non rimettendoci andiamo a conclusione tra poco Antonio ti restituiamo la linea a te allo studio un'ultima domanda al nostro ospite i giovani si avvicinano ancora a questo settore o proprio questi problemi allontanano? no 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 sembra che siamo gli ultimi della generazione noi perché non ci sono aiuti concreti a questo settore non puntano più il pescatore professionista artigianale oramai ha preso di gran lunga e larga il discorso acquacoltura allevamento eccetera oramai le grandi associazioni puntano più su questo settore e non sull'oro che noi abbiamo il loro gli stocchittici che noi li chiamiamo l'oro del nostro mare non puntano più a questo non so insomma è blu l'oro di Tart il nostro mare tutto quello che contiene grazie al nostro ospite Michele Tedesco qui da Taranto vi restituiamo la linea e naturalmente vi terremo aggiornati su prossimi ed eventuali sviluppi ma intanto i problemi restano a voi la linea grazie grazie Gianmarco grazie a te al tuo ospite la testimonianza che lascia parecchio senza parole loro dicono siamo gli ultimi così prendere il mare non conviene più 6-600 euro soltanto per un'uscita senza nessuna garanzia stamattina c'è stata una riunione importante con le maggiori marinerie di Puglia voi venite da due centri eminentemente non soltanto affacciati sul mare ma che di quello vivono che cosa aggiunge l'incontro di stamattina che ve ne pare di quello che abbiamo appena ascoltato è l'urgenza l'urgenza di interventi abbiamo preso nota tutti quanti l'assessore con tutti i consiglieri regionali presenti delle esigenze e delle proposte delle marinerie per quanto riguarda appunto questo caro gasolio perché diciamo caro benzina è l'elemento fondamentale in questo momento storico per far tornare la marineria questi questi nostri marinai in mare però ecco bisogna agire al più presto non c'è tempo da perdere i nostri operatori non hanno tempo il caro gasolio porterà queste persone sta portando queste persone a non uscire più in mare e il problema non è solo il loro il problema è di tutta la filiera perché nel momento in cui questi nostri operatori marittimi quindi parlo sia degli armatori sia di chi ci lavora sono migliaia di persone non usciranno in mare finché non avremo un calo oppure un costo sui 70 centesimi 60-70 centesimi al litro ebbene non avremo il pescato se non avremo il pescato non troveremo il pescato anche sui banchi dei mercati e quindi non avremo problemi con la ristorazione avremo problemi col turismo avremo tutto quell'indotto problemi con l'indotto collegato alla pesca per cui ritengo che così come d'accordo con assessore con consigli regionali questa mattina entro domani avremo i dati reali dei costi aggiuntivi per poter operare al più presto e diciamo per quanto riguarda la regione fare ciò che è possibile per calmirare questo problema esattamente entro domani abbiamo i dati una volta ottenuto quel quadro gli strumenti a nostra disposizione quali sono perché al momento stiamo aspettando il decreto di sostegno alla filiera ittica annunciato dal ministro Patuanelli la linea è avverrà sulla base di quello dello scorso anno targato covid c'è un tavolo interministeriale già avviato nel frattempo loro dicono ci servono sostegni diretti ce li possiamo permettere da dove li prendiamo? oggi abbiamo fatto come ha detto il collega Tammac un incontro pragmatico devo dire che le marinerie malgrado il dramma che stanno vivendo sono state propositive hanno avuto la capacità di indicarci due strumenti il primo è quello probabilmente di un fermo tecnico straordinario che consentirebbe loro di lasciare le barche a terra e comunque continuare a vivere quantomeno dignitosamente l'altra alternativa è quello di un contributo economico da parte della regione che sia in grado di calmierare il prezzo del costo del gasolio la situazione è drammatica però la dignità di queste persone che vogliono soltanto lavorare essere messe nelle condizioni di andare in mare ha elevato molto la sensibilità dei consiglieri regionali anche dell'assessore Pentasuglia che ha risposto immediatamente a un richiamo dei consiglieri regionali del territorio da me a Saverio Tammacco al collega Gatta eravamo tutti presenti perché oggi volevamo far sentire la presenza della politica ma non in maniera diciamo propagandistica abbiamo voluto individuare le soluzioni abbiamo dato la massima disponibilità all'assessore Pentasuglia di lavorare su una di queste due direttrici quindi il compito che abbiamo oggi noi è trovare immediatamente le risorse non possiamo aspettare i soldi comunitari come ha detto il collega Tammacco non possiamo aspettare il FEAP dobbiamo trovare delle risorse nel bilancio regionale per dare una risposta immediata e celere risorse dal bilancio è già una prima risposta perché l'altra è credito d'imposta ma quello mi sa che ha un perimetro un po' più largo e dei tempi un po' più lunghi l'assessore ha al momento un quadro che parla di 2 milioni e mezzo della misura 21 del PSR che però è quella degli unatantum ed è quella delle misure straordinarie contestualmente un'altra chiave di lettura è chiedere l'estensione del temporary framework che di fatti sembra un tecnicismo per chi sta dall'altra parte è l'estensione della deroga per gli aiuti di Stato che poi è quello che ci consente di dare gli aiuti diretti senza passare per gli investimenti anche questo ha dei tempi lunghi tutti hanno tempi lunghi e i nostri operatori non ce li hanno è inutile avventurarsi prima nel proporre soluzioni attendiamo i dati perché stamattina abbiamo parlato abbiamo lavorato con i nostri amici delle varie marinerie attendiamo i dati con i dati alla mano potremo capire quanto e come la regione potrà aiutarli sicuramente tutti i consiglieri assessori presidenti tutta la giunta sarà al fianco delle nostre marinerie della Puglia per fare in modo che possano trovare ristoro e ritornare sul mare al più presto per dare come ha detto l'amico collega la catena per ridare quella dignità che da tempo pian piano questi operatori stanno perdendo e che non ha a che fare soltanto con il gasolio abbiamo a che fare con regolamenti con regolamenti comunitari io ricordo il problema delle maglie il problema del contingentamento i problemi diciamo di altri tipi ecco hanno subito una serie di problematiche ma sono andati avanti ora non riescono più ad uscire perché quando la spesa è maggiore diciamo le uscite sono maggiori delle entrate è chiaro che non è una questione di sciopero di voler rimanere a terra non possono andare per mare allora non conviene più non ha nessun senso mettere le barche in mare Forza Italia qualche giorno fa ha detto si potrebbe guadagnare 20 centesimi al litro utilizzando il modello della finanziaria 2008 diceva Mauro Dattis che modello è? come ci arriviamo? bisognerebbe chiedere a Mauro Dattis la verità a parte questa battuta simpatica però però Confindustria Brindi si dice il governo in questa settimana ha incassato 45 milioni di IVA di extragettito possiamo usare quelli per calmirare secondo me questa è la misura migliore la verità è che il governo dovrebbe lavorare su diverse direttrici oltre al controllo sulle presunte truffe che dovrebbe attivare immediatamente nella filiera del gasolio sicuramente abbiamo le accise che incidono per circa il 60% sul valore della vendita del prodotto abbiamo l'IVA quindi l'idea di utilizzare queste somme è la più giusta però va fatto presto il problema è decidere non rimanere fermi capire che è vero che noi stiamo parlando oggi dei pescatori ma il caro carburante il caro gasolio il caro metano sta incidendo sull'economia e rallenterà devastantemente la crescita che si era attivata quindi per evitare che questa contrazione incida sulle misure straordinarie imposte nel 2021 credo che il governo debba mettere mani al portafoglio e chiedere alla Comunità Europea di allargare nuovamente le maglie che anche lì vuol dire extra deficit però diciamo che Keynes in questo momento ci aiuterebbe moltissimo perché abbiamo bisogno di risorse abbiamo bisogno di soldi abbiamo bisogno di dare sostegno all'economia è inutile che ci prendiamo in giro la verità è che la strada più veloce è quella dite voi non abbiamo alternativa oggi perché possiamo ragionare su quanto vogliamo ma non possiamo più reggere questa situazione economica adesso i trasportatori si fermano si sono già fermati oggi le famiglie non sono più in grado di pagare le fatture del metano perché 4-500 euro di fatture di metano le aziende sono bloccate l'Eta dice facciamo un assegno energia poi chiediamo a loro se visto dalle imprese questa cosa queste misure secondo me sono misure di sostegno ma che non generano crescita sono misure che danno il contributo una tantum che probabilmente mette due spiccioli in tasca ma non risolve il problema quindi servono gli altri sono strutturali e la Puglia potrebbe giocare un ruolo determinante proprio su quelle strutturali che hanno a che fare con l'energia ne parliamo tra un attimo intanto un paio di grafiche così capiamo subito a che punto siamo e ricoinvolgo subito il Presidente eccola qua partiti in pressing su benzina e bollette subito un tetto al prezzo del gas vediamo la prossima al volo abbiamo guizzantemente se c'è la prima c'è pure la seconda eccola qua crisi e rincari delle bollette e le risorse del piano rurale per sostenere le imprese nel frattempo le aziende si muovono posticipo dei turni serali per risparmiare sull'energia c'è chi riduce l'illuminazione nei piazzali ma questo potrebbe incidere sulla sicurezza è il momento di rivedere i contratti di forniture chi può si sta già muovendo sì certamente sì si è già mosso da quasi un mese con la ridiscussione dei listini prezzi di vendita con la ridiscussione dei costi di acquisto delle materie prime con la ridiscussione anche di eventuali contratti a tempo determinato comunque contratti a progetto su attività professionali ridotte nel tempo delimitate nel tempo c'è sicuramente una curvatura rispetto a un adattamento necessario alla situazione che è assolutamente allucinante sotto gli aspetti macroeconomici e anche microeconomici cioè le aziende anche nel settore meccanico che io rappresento sono in una condizione assolutamente di panico perché se hanno un livello di capacità di assorbimento energetico di necessità energetica alta entrano in una condizione di assoluto sbilancio tra i costi di produzione e il valore delle materie che emettono fuori dal loro capannone per la vendita quindi siamo in una condizione dove ciò che viene offerto non ha più alla clientela non ha più una validità superiore ai tre giorni prima si davano quando si offrivano i materiali validità di 60 giorni adesso si dà una validità di tre giorni su certi materiali su certi componenti nemmeno una validità di tre giorni ma ridiscussione del prezzo nel momento in cui viene acquistato il materiale in cui si decide di acquistare il materiale eravamo già da due mesi da tre mesi a questa parte della condizione di un mancato approvvigionamento dei materiali delle materie prime dalle materie elettroniche i componenti elettronici che non si trovano adesso sta diventando irreperibile la materia prima metallica per la componentistica per la produzione per i simi lavorati si stanno esaurendo le scorte io recentemente ho fatto la conferenza stampa sullo stato di salute dell'industria meccanica e avevamo una condizione di scorte piuttosto interessante da parte dell'azienda meccanica si stanno esaurendo anche quelle perché oramai siamo in consegna sulle materie prime 4-5 mesi 6 mesi siamo in una condizione dove veramente si vive la giornata e questo non è assolutamente plausibile per un sistema economico bisogna fare progetti bisogna avere visioni e non si possono avere in questo momento aziende nel panico si vive la giornata mi sembra un riassunto secco e netto di quello che sta accadendo prima di andare in pubblicità riparto da quella conferenza di due settimane fa effetti diretti del conflitto non ne vediamo però vediamo quelli possibili perché noi lavoriamo con partner che poi con quei territori lavorano molto come la Germania siamo ancora a quel punto? sì sicuramente sì i numeri ci dicono che siamo ancora in espansione i numeri che sono registrati a rilevazioni vecchie di 4 settimane 3-4 settimane ci dicono che siamo in espansione che l'onda dell'espansione nell'industria manifatturiera sta continuando che l'onda della la necessità di integrare mano d'opera integrare professionalità è ancora forte a ieri era ancora forte c'è gente che ha delle commesse da sviluppare ha bisogno di progettisti ingegneri di tecnici però la prospettiva con l'orizzonte che si guarda e che si avvicina sempre di più è che sicuramente ci saranno delle ripercussioni sul quale non si possono ancora valutare quelle che possono essere le conseguenze perché come ha detto lei il mercato industriale dalla manifattura meccanica è tutto legato non è in provincia di Bari che si produce e si esaurisce quello che si produce è assolutamente tutto legato io su Molfetta ho delle aziende che fanno meccaniche di precisione che hanno 1.200.000 euro di fatturato quindi micro imprese che esportano in Germania e la Germania ha un legame industriale con la Russia storico diciamo le decisioni politiche nell'ambito europeo della Germania erano le più tentennanti proprio perché c'era un discorso di legame industriale al quale sicuramente bisogna prenderne atto e bisogna anche comprendere la decisione dei politici tedeschi però non sappiamo quello che succederà nel breve periodo non sappiamo quello che accadrà nel breve periodo noi ci fermiamo ma nel prossimo blocco ripartiamo da Luigi De Magistris e dal fronte energetico che ruolo gioca la Puglia che ruolo ha intenzione di giocare da qui in avanti tra poco eccoci qua di nuovo insieme di nuovo labirinti ancora Antenna Sud secondo blocco di questa puntata numero 142 ripartiamo dagli esiti del conflitto perché Napoli è tra gli hub per il coordinamento degli aiuti ma anche perché sabato le città di tutta Europa si sono incontrate a Firenze e allora io saluto e ringrazio Luigi De Magistris già sindaco di Napoli bentrovato bentornato a labirinti e grazie per essere con noi grazie a voi buona serata ed allora lei dice qui manca la politica ci serve un'Ucraina paese neutrale ci serve un nuovo equilibrio questo vuol dire però almeno due elementi intanto che l'Italia sta facendo troppo poco sui tavoli internazionali ma vuol dire anche e questo glielo chiedo non ci staremo dicendo anche che quei paesi allora non hanno diritto di autodeterminarsi almeno nell'immediato? io penso che quando si tratta di entrare ad esempio in un'organizzazione militare come la Nato perché poi questo è uno dei temi c'è una richiesta di chi vuole entrare ma ci deve stare anche una valutazione geopolitica di chi fa entrare io credo che noi dobbiamo pensare a un'Europa diversa dove nessuno si può permettere come ha fatto la Russia di invadere un altro Stato ma anche provare a costruire quell'Europa unita nelle diversità con un nuovo equilibrio senza armi nucleari è caduto il patto di Varsavia si può ipotizzare un superamento della Nato con una politica estera più forte dell'Europa e l'Ucraina in questo momento drammatico potrebbe essere quel luogo dove mi auguro davvero quanto prima politica e diplomazia possano costruire uno Stato neutrale denuclearizzato ponte tra l'Occidente e l'Oriente ci sono già alcune cose che possiamo imparare da questo conflitto perché i primi effetti sono quelli del caro energia e del caro carburante da una parte ci sono i ministri c'è il ministro Cingolani il collega Patuanelli che dicono occhio perché a un certo punto c'è la speculazione e una parte di quello che stiamo vedendo è speculazione quali sono gli argini al momento tetto europeo al tetto del gas extra deficit tassa sugli extra profitti delle società del settore carburante sono questi gli strumenti che abbiamo adesso per fare cordone e sono gli strumenti giusti visti dal suo di punto di vista ma ci sarebbero tante cose da dire la prima non lo dimentichiamo che l'aumento era già prima della guerra quindi già chi dice che l'aumento è collegato esclusivamente alla guerra o sapeva già prima che la guerra scoppiava o c'è qualcosa che non torna la seconda credo che però Cingolani quando parlava lui voleva far apparire che fosse l'uomo della strada che parla al barco gli amici cioè se un ministro della Repubblica dice che c'è una truffa sull'aumento dei carburanti sta autodenunciando in qualche modo il governo per truffa perché ricordiamoci che il governo prende un livello di super profitti di accise enorme quindi cominciate a togliere una parte di queste accise e poi ricordiamolo sempre per l'amore di verità che l'Italia in questo momento con una mano dà le armi all'Ucraina con l'altro insieme all'Unione Europea danno 600 milioni di euro al giorno alla Russia che si finanzia la guerra quindi è chiaro che fin quando dipendiamo da là sarà tutto molto più complicato e in pochi mesi non possiamo dare una svolta alle energie rinnovabili anzi e chiudo qual è la proposta che fa il governo ritorniamo al carbone e addirittura riconsideriamo il nucleare quindi adesso credo che devono mettere soldi per calmierare questa situazione e non escludo che purtroppo ahimè li prendano proprio da quel famoso PNRR di cui abbiamo tanto parlato e nulla ancora visto e del quale tra l'altro stentiamo a vedere sui territori come dire pancia a terra i risultati perché erano gli stessi territori che dovevano ancora limare una serie di questioni burocratiche poi ci arriviamo se abbiamo tempo però citava la dipendenza dalle fonti energetiche e noi ci stiamo collegando da una regione come la Puglia che discute di raddoppio del gasdotto TAP di metanodotto Poseidon che dovrebbe arrivare da Cipro di rigassificatori offshore la domanda a un uomo che ha una storia politica chiara è ma non avremmo detto troppi no finora una parte di ambientalismo non avrà detto troppi no ma noi dovevamo dire dei sì che non sono stati mai detti che sono i sì a quelle energie rinnovabili pulite vere che soprattutto in un territorio come il nostro mediterraneo fatto di sole di mare di geotermia di solare ne avevamo tanta e là non abbiamo mai puntato è chiaro che adesso la svolta non la puoi fare in pochi mesi io credo che questa dipendenza da altri paesi sia stato un gravissimo errore vede faccio un esempio che pochi sanno la Calabria che è un territorio molto colonizzato in maniera negativa dalle multinazionali è l'unica regione d'Italia che ha già raggiunto il carbon neutral cioè c'è più ossigeno che anidride carbonica quindi io credo che se noi puntiamo per esempio su grandi riforestazioni urbane sull'energia solare sulla geotermia ma anche per esempio sul tema di un eolico non invasivo come si è fatto in questi anni sventrando montagne o adesso addirittura sul mare ma in maniera intelligente insomma le modalità ci sono non le hanno volute per seguire in maniera efficace ma qual è il punto di caduta stavolta perché come dire in tempi in tempi di pace come si diceva una volta il quadro è uno adesso che abbiamo l'emergenza alle porte la transizione energetica qui c'è una serie di aziende che dicono spostiamo il limite del 2035 perché noi non ci stiamo con i tempi guardi io temo moltissimo che in questi momenti di crisi invece di cogliere anche come dire la mara opportunità come diceva Einstein stiamo affidando medicina e cura ai dottori della politica e delle istituzioni che ci hanno portato fino al baratro cioè se la ricetta è torniamo al fossile e il carbone che sono i principali responsabili del cambiamento climatico o come dire perseguiamo addirittura sul nucleare stiamo vedendo in questi giorni il terrore nucleare che c'è in Europa la ricetta purtroppo è amare e semplice allo stesso tempo dobbiamo trovare subito un accordo politico diplomatico per far cessare la guerra e quindi in primo luogo per evitare morti innocenti che sono già a centinaia e a migliaia ma perché noi ancora oggi non possiamo fare a meno della Russia le stime più confortanti dicono che almeno fino al 2027 quindi almeno per altri cinque anni noi abbiamo bisogno del gas russo la Russia non può essere un nostro nemico dobbiamo lavorare per ricomporre questa guerra orrenda e costruire un'Europa più unita altrimenti a breve termine non ne usciamo prima le chiedevo della Puglia il nostro governatore Michele Milano le prese con una verifica di maggioranza anche ma non soltanto sui temi energetici ci sta arrivando però su un fronte politico vagamente fibrillante il neoassessore alla sanità è un azzurro di lungo corso com'è vista dal suo di osservatorio il centro-sinistra pugliese quello targato Michele Milano a che punto sta? ma innanzitutto guardo sempre con molta amicizia e affetto la Puglia perché c'è un legame fortissimo con Napoli noi dobbiamo lavorare per un sud innanzitutto che cacci via anche lo spettro dell'autonomia differenziata che sarà un ulteriore clave che si abbatte sul nostro sud con Emiliano io notoriamente ho sempre avuto rapporti come dire di amicizia e anche di stima sono però percorsi politici molto diversi cioè Michele Milano ha fatto una scelta nel centro-sinistra tradizionale anzi pur abbastanza allargato a pezzi che hanno magari poco a che fare col centro-sinistra noi abbiamo costruito invece un progetto politico a Napoli e non solo alternativi io dico al sistema cioè siamo i non allineati perché poi diciamo purtroppo le nefandezze gli errori gli sbagli sono stati fatti non solo dal centro-destra ma anche dal centro-sinistra quindi vorrei una politica come dire un po' più netta e meno ambigua soprattutto nel nostro sud l'alleanza verde che ha proposto stamattina Enrico Letta Beppe Sala va in quella direzione o no? Lei ci starebbe? O è ancora troppo di sistema? Letta detto mitragietta di questi tempi sa il tema della guerra è un tema etico e politico che creerà delle unioni forti ma anche delle divergenze io devo essere sincero nel nel centro-sinistra degli ultimi tempi chiamiamolo centro-sinistra perché di sinistra non c'è più niente è un centro che ha abbracciato il draghismo ha abbracciato Berlusconi ha abbracciato Salvini condivide operazioni di macelleria sociale vede abbracciati Bonaccini e Zaia faccio fatica a pensare a dei punti di contatto sicuramente non in fase elettorale poi se uno noi ci candidiamo alle prossime elezioni del 23 con una coalizione politica popolare civica e sociale si va in Parlamento poi soprattutto se dovesse tornare il proporzionale poi nel Parlamento si possono anche creare delle convergenze questo sicuramente sì su alcuni temi soprattutto se riguardano l'attuazione della Costituzione va bene io la ringrazio poi avremo tempo e modo di chiederle anche di Napoli che collega di lungo corso come Antonio Bassolino dice a 150 giorni siamo all'immobilismo però così è ha avuto modo di sentire il suo successore sì il mio successore chiaramente un paio di volte l'ho incontrato non ho ancora capito qual è la sua visione di città ma sarà diciamo una mia distrazione momentane va bene qualora dovesse tornare in Puglia e a Mario l'aspetto in studio intanto la ringrazio per questo spazio a presto grazie a voi buona serata così parlò Luigi De Magistris l'ho interrotta sui numeri e intanto per rasserenare il quadro a tinte fosche con il quale abbiamo chiuso c'è da dire che è vero che la meccanica cresce meno ma cresce meno perché la flessione è stata inferiore agli altri comparti e la ruota pugliese ha girato anche in emergenza lo ha fatto anche con giri importanti le conferenze stampa semestrali che abbiamo fatto durante il covid ci dicevano e ci restituivano una meccanica che lavorava che non aveva una condizione di depressione covid uguale a quella italiana il covid si sono fermati in tanti hanno continuato a lavorare coloro che erano legati a settori strategici la Puglia fortunatamente è riuscita durante il covid a dimostrare di essere diciamo strategica sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista industriale e c'è stato diciamo ci sono state delle percentuali che erano sopra della media almeno del 10% rispetto alla media nazionale e questo ci ha rincuorato e nel momento in cui c'è stata la ripartenza siamo partiti da un livello che non era quello nazionale e quindi adesso il balzo in avanti non è così entusiasmante così come nel resto d'Italia che ci sono numeri spaventosi di esplosione a livello industriale però si sta affermando a gennaio c'è stato un cado del 3-4% rispetto alla produzione industriale quindi diciamo l'onda arriverà anche in Puglia inevitabilmente dice il presidente Fontana siamo preoccupati per l'aumento dei costi dovremmo riscrivere il PNRR allungarlo temporalmente spostare gli obiettivi della transizione energetica ecologica assolutamente purtroppo le condizioni di emergenza devono inevitabilmente mettono tutto in discussione così come nel 2019 stavamo andando a gonfie vele avevamo un'economia che praticamente era a doppia cifra crescevamo come un albero innaffiato con un concimo eccezionale era una crescita strutturata una crescita solida ci siamo ritrovati a marzo a febbraio del 2019 nel Covid siamo piombati in una condizione dove abbiamo dovuto rimettere tutto in discussione è stato annullato tutto e tutto rimesso in discussione adesso ci troviamo in un'economia di guerra come ha detto il presidente del consiglio dobbiamo rimettere nuovamente tutto in discussione anche il PNRR perché inevitabilmente l'Europa se ne accorgerà a livello istituzionale che non è più possibile parlare solamente di riprese e resilienza legate al Covid ma dovremo parlare di una ripresa e resilienza perché tutti lo sanno che quando si impongono delle sanzioni come quelle che sono state imposte alla Russia i primi a pagarne nel breve periodo sono i paesi che le hanno imposte nel lungo periodo le pagherà la Russia ma noi le dobbiamo sopportare quelle sanzioni fatto sta che al momento l'assessore allo sviluppo economico Alessandro Delino ci dice ballano 442 milioni di giro d'affari avremo necessità di liquidità la strada più veloce è quella dell'extra deficit questo però vuol dire prima di tutto arrivare al fronte energetico prima o poi sulla distanza ci dovremo arrivare a che punto sta il piano energetico regionale perché il centro-sinistra l'ha inserito nella verifica che ha chiesto Michele Midiano se ne discute il nostro piano? Dobbiamo mettere mano a questo piano dobbiamo togliere il concetto dal no a tutti i costi dobbiamo riparare anche ad errori dal passato dobbiamo vedere il futuro con una visione con nuove fonti energetiche ma con un periodo di transizione giusto perché non si può passare dalla sera alla mattina da una fonte ad un'altra essere realisti e cercare di non dipendere di dipendere il meno possibile da altri paesi e quindi la Puglia in questo senso deve attuare tutte le misure necessarie per raggiungere quei livelli non solo regionali ma anche nel contesto nazionale utili affinché si possa avere un'autonomia energetica nel più breve tempo possibile non sto parlando di domani perché dopo chiariremo anche eventualmente i tempi necessari per poter avere questa transizione Fatto sta che c'è un pezzo di Partito Democratico che chiede ufficialmente al governo più coraggio su questi temi alcuni li abbiamo elencati con De Magistris voi come gruppo che linea avete? ci allineiamo anche al Partito Democratico cioè maggior coraggio vuol dire TAP vuol dire Poseno vuol dire negli offshore TAP ad esempio per quanto riguarda la TAP una maggior afflusso di di energia dalla TAP di metano dalla TAP poi ci spiegava il Presidente si tratta di di pressione potrebbe con un aumento di pressione potremmo avere diciamo maggior metano disponibile e quindi diciamo già andare verso un settore poi fare un vero e proprio piano della nostra regione che veda varie fonti di energia sia attuali sia quelle relative alle nuove fonti energetiche vedi l'utilizzo anche dell'idrogeno vedi anche l'utilizzo di altri tipi di fonti energetiche anche perché il governo ha sbloccato questa settimana sei parchi eolici quattro dei quali sui monti da un lega cop dice accompagniamo questa transizione i cittadini entrino nelle società green questa è la strada io sono d'accordo poi chiaro un piano energetico non si cambia a colpi di maggioranza ci sono parole che ha citato il Presidente che per me suono il Vangelo programmazione e visione quello che manca da 15 anni in Italia e in Puglia è la programmazione la visione della materia energetica ci siamo accorti solo oggi che l'energia è una nuta dolente perché l'ha smascherata la vicenda della guerra il caro metano la verità che diciamo del sistema Italia non mi posso occupare perché è più grande di me ma per quanto concerne la Puglia è da quando mi sono insediato e Saverio nella testimonianza che io dico che per dare attuazione alla transizione ecologica dobbiamo mettere a tre mano a tre strumenti che sono il PEAR che è il piano energetico ambientale regionale che indica e traccia la via rispetto a quello che deve essere il nostro sistema energetico rapportato alle esigenze nazionali e di concerto con la Comunità Europea perché come sappiamo noi abbiamo delle imposizioni in ordine alla produzione di energia green e la regione Puglia è una di quelle che contribuisce maggiormente altro aspetto importante secondo me è i siti doni il governo ci ha chiesto di individuare i siti doni altrimenti ci approveranno in ogni consiglio dei ministri gli impianti e ci ritroveremo a valle a dire no piuttosto che a programmare programmazione e visione altro strumento su cui bisogna mettere mani immediatamente è la rivisitazione del PPTR noi perfino per installare il fotovoltaico sui tetti nell'agro abbiamo difficoltà quindi se non siamo in grado di mettere mano a questi tre strumenti quindi PEAR individuazione dei siti doni piano paesaggistico territoriale noi potremmo stare a dire fuffa per tutta la serata programmare vuol dire mettere mano a questi strumenti programmare vuol dire far diventare la Puglia la Silicon Valley delle energie rinnovabili ma lo dobbiamo decidere e dobbiamo sapere con che strumenti farlo parlare di idrogeno green è la cosa più bella ormai va di moda l'idrogeno green va di moda per produrre idrogeno green ci serve una quantità e mole di fonti rinnovabili smisurate quindi dovremmo continuare ad andare verso quella direzione ma è una scelta politica io non la contesto centrali nucleari sono strumenti ma facciamo delle scelte chiare il partito del no il partito del muo vediamo ora vediamo ora decidiamo non può più albergare nel nostro sistema su questo immagino noi che ci siamo questi strumenti la convincono da assolutamente bisogna affrontare la questione bisogna prendere il toro per le conne come si dice in maniera metaforica lei ci stava raccontando i tempi lunghi della transizione e glielo chiedo perché adesso quando si parla di meccanica si parla anche di automotive quando si parla di automotive non si può non passare da quello che sta accadendo nella zona industriale del capoluogo una serie di aziende sta chiedendo noi queste scadenze non ce le possiamo permettere occorre rinviare il limite del 2035 l'Italia dell'automotive è l'unica strada oppure è esattamente il momento di fare l'esatto contrario allora dobbiamo distinguere la questione energetica che riguarda la manifattura nella sua interezza le aziende agroalimentari le aziende meccaniche tutta la manifattura nella sua interezza va affrontata in una determinata maniera con programmazione e visione affrontando quelle che possono essere le infrastrutture le modalità di produzione e gli aspetti legati alla distribuzione all'utilizzo l'aspetto legato alla meccanica e alla sua trasformazione ecologica alla sua metamorfosi ecologica ha un altro principio che è quello diciamo della transizione ambientale la si è affrontata male la si è affrontata dall'alto con un approccio up-bottom anziché il classico approccio bottom-up così come si devono affrontare tutte le programmazioni industriali economiche e strategiche e ci si è scontrati contro la realtà perché se tu imponi di non produrre più motori diesel da 2035 distruggi un'economia che ha avuto un'apoteosi per oltre 35 anni però lo sapevamo che prima o poi il 2035 sarebbe arrivato ma nel momento in cui è stato imposto si è creata l'onda di flessione del fatto che l'industria automobilistica italiana ed europea è praticamente si è seduta completamente perché nel momento in cui tu hai un'industria dell'automobile che sul motore diesel basa la quasi totalità della sua necessità produttiva della sua necessità di maestranze e della sua economia per passare nel 2035 quindi domani ad un motore che ha bisogno di un decimo di quelle maestranze e di quel tipo di manifattura tu distruggi un mercato senza aver dato un'alternativa devi dare la possibilità a quel mercato di trasformarsi a quel punto devi dire io limito le emissioni non dico il divieto di produzione del diesel ma limito le emissioni sempre di più quindi la scienza la ricerca gli investimenti delle grandi aziende si sarebbero indirizzati per abbassare sempre di più le emissioni perché fino ad oggi di essere passati da euro 1 a euro 6 a euro 7 a euro 8 nessuno si è lamentato e nessuno ha detto ah ma così distruggete l'industria dall'automotive no anzi la si è stimolata ci sono stati investimenti c'è stata ricerca c'è stata interazione con la manifattura c'è stata creazione di filiera quindi c'è stata un'economia che è andata avanti grazie all'espansione a questo salire la scala delle famose classi euro nel diesel dire no adesso il diesel non esiste più per una serie di motivi che è inutile stare qui a prendere in considerazione la conseguenza è questa fortunatamente il sistema economico e sociale si è aggregato Federmeccanica si è alleata con i sindacati c'è un tavolo il tavolo per il patto pugliese dell'automotive poi le chiedo anche a che punto stiamo nello specifico prima dobbiamo andare in pubblicità e poi avremo il tempo per raccontarci una bella storia almeno per quelle che sono le intenzioni poi giro di campo finale perché vi devo chiedere anche delle comunali lei è kingmaker o playmaker in quel di Molfetta tra poco state con noi eccoci qua terzo e ultimo blocco di questa 142esima puntata ripartiamo da una storia ed è della storia di Urbano Di Piero ed Emilio Coreale prendono un bus a noleggio da Troia viaggiano per 25 ore 2000 km per arrivare a Medica in Polonia al confine con l'Ucraina abbiamo chiamato il viaggio al confine della sofferenza e allora ce lo facciamo a raccontare da Urbano Di Piero che è consigliere comunale in quel di Troia ben trovato grazie per essere con noi buonasera a voi grazie grazie per avermi chiamato come è arrivata a questa iniziativa come ci è arrivato dal suo di quotidiano a mettersi in un bus e andare in Polonia beh tutto è partito dal nostro sindaco cioè ha avuto dei contatti dall'associazione Anas che ha sede in Sardegna e inizialmente dovevamo arrivare solo a Padova quindi ci eravamo organizzati per fare l'accoglienza a Padova e dovevamo partire il venerdì poi ha detto guardate che non è Padova è Polonia perché noi abbiamo il gruppo Whatsapp degli amministratori allora ho detto a mia moglie ma la Polonia non è qui dietro è lontano ci vogliono tre giorni per andare e venire mentre parlavo mi chiama dice Urbano senti ci vuoi andare tu vai tu con Emilio Emilio è un volontario un amico di infanzia anche del nostro sindaco quindi persona conosciuta e fidata e non ho esitato ho detto sì si parte lunedì mattina alle 4 ci mettiamo nel pullman facciamo questo questo viaggio non sapevamo cosa ci aspettava sì si parla di guerra quando si guarda il monitor si vedono le bombe che cadono la gente che scappa ma poi tutto finisce quando spegni la televisione abbiamo fatto 25 ore di di viaggio abbiamo trovato degli autisti fantastici con un'azienda precisa guardi non nulla da dire siamo arrivati al confine con con l'Ucraina in Polonia ma era tutto tranquillo non sembrava che ci fosse questo via vai abbiamo parcheggiato del pullman ci siamo detto noi che abbiamo sbagliato posto il problema era più avanti abbiamo fatto 500 metri e abbiamo visto una fila interminabile di gente che attraversava il confine con la Polonia e c'erano poliziotti polacchi che li indicavano la strada da fare e quindi li indirizzavano verso le circolari che li portavano in un grande centro commerciale abbiamo scoperto dove era stato dibito a dormitorio una cosa immensa e nei negozi sull'ingresso dei negozi c'era scritto numero 1 Germania 2 Olanda quindi chi doveva andare in Germania aspettava la circolare o il pullman che poi li avrebbe portati in quelle direzioni noi eravamo in contatto con un referente ucraino di Anas che era in Ucraina e quindi ci sentivamo telefonicamente perché l'arrivo previsto dei nostri ospiti era la mattina alle 8 il problema è che le circolari o i pullman che dovevano portarli al confine li hanno lasciati a 3 km di distanza quindi hanno dovuto fare tutta la strada a piedi ma non è un camminare continuo è come quando si sta in fila alla posta perché comunque bisogna aspettare la frontiera il controllo della frontiera ucraina quindi la costa è diventata interminabile 12 ore di attesa per cercare poi di raccogliere queste persone voi ne avete accolti 50 sono tante donne alcune anziane tanti bambini perché i più grandi e soprattutto gli uomini restano a difendere la patria come stanno adesso? allora abbiamo fatto il viaggio di ritorno che è durato 27 ore in un silenzio surreale c'erano 50 persone nel pullman ma si sentevano ogni tanto due bambini di due anni che sa piangevano oppure avevano bisogno di rilassarsi un po' di sgranchirsi le gambe gli altri le donne comprese non hanno dato un fiato la dignità è poi la cosa che più mi ha colpito siamo arrivati alle 11 e mezzo di sera a Troia hanno atteso con pazienza di fare il tampone e guardi non è semplice fare tante ore di viaggio e poi sottoporsi al tampone poi li abbiamo rifocillati e sono andati a letto il giorno dopo ho visto i bambini giocare e questo mi ha fatto stare molto meglio le donne poi indaffarate nel lavare la biancheria oppure c'è un estetista che subito ha messo il banchetto e quindi ha dato una certa normalità alla vita quotidiana di queste persone la cosa che più mi ha colpito è stata la signora Irina che ha detto io ho lasciato lì mio marito a fare la guerra mio fratello a fare la guerra c'ho mia madre e mio padre il telefono la mattina se mi rispondo non vuol dire che sono vivi e quindi diciamo che questa questa cosa ti sconvolge perché noi siamo abituati alla nostra normalità tra virgolette sembra che la cosa non ci tocchi però vedere scene del genere al confine bimbi che fanno coraggio danno coraggio alle mamme perché io ho girato delle immagini che mi resteranno per sempre nella mente ho visto un bambino piccolo di due anni che camminava avanti con lo zainetto ogni tanto si girava e vedeva se c'era la mamma e lui continuava a camminare c'erano questi soldati polacchi che davano una mano alle persone a portare i loro pochi bagagli ho visto una signora in sedia rotella che si portava dietro i tre cani in più i bagagli quindi diciamo che sono scappati con quello che avevano con quello che hanno potuto adesso sono tutti in quarantena e poi chi potrà potrà ricongiungersi con i familiari voi avete già una stima di quanti potranno farlo e chi non potrà farlo poi beh verrà allora quelli che hanno possibilità di andare in altri luoghi raggiungeranno tranquillamente questi posti certo c'è tutta una trafila da fare non sarà semplice perché comunque durante la quarantena si li abbiamo assistiti ma non abbiamo avuto contatti diretti perché poi ci diranno loro chi vuol restare e chi vuol andare via chi resterà verrà assistito verrà introdotto nella nostra società vi posso garantire che tutta la comunità troiana ma anche da fuori ci stanno chiamando da tutti i comuni del subappenino per dare una mano abbiamo dovuto fermare l'apporto di roba perché altrimenti non sapevamo dove metterla anche perché a loro manca tutto manca la quotidianità quindi dallo spazzolino da denti ai prodotti per l'igiene alla biancheria sta roba qua stiamo provvedendo un po' alla volta in base a quelle che sono anche le loro richieste perché vi devo dire che sono molto molto limitati non vogliono neanche pensare quando ci presentiamo e portiamo qualcosa qua si piangono perché non si aspettavano tanta accoglienza due sono le strutture al momento disponibili l'ostello del comune tra l'altro è quello che accoglie i viandanti della via francigena e il dopo di noi San Giovanni di Dio lì c'è già una piccola comunità ucraina in quel di Troia no? sì c'erano le classiche badanti che qualcuna si è anche sposata da noi quindi diciamo che è da tempo che abbiamo queste comunità ci sono russi ucraini rumeni quindi diciamo che conosciamo bene la popolazione certo loro non conoscono bene noi perché c'era una signora che mi ha detto io non ho mai mangiato la pasta in vita mia quindi erano curiosi anche di assaggiare quelli che sono i nostri prodotti stiamo aspettando che finisce questa quarantena perché anche la popolazione vuole incontrarli quindi con molta calma molta tranquillità stiamo cercando di di non dargli uno shock troppo emotivo troppo forte ecco posso chiederle prima di salutarla che cosa ha imparato da questa trasferta cosa ha imparato è dura guardi non è stato semplice ho riflettuto molto su quella che può cambiarti la vita da un giorno all'altro questa gente che aveva la sua vita c'erano gli estetisti una signora che faceva massaggi al viso insegnava inglese famiglie che sono scappate all'improvviso noi non diamo peso a questa cosa e molti dissidi tra di noi anche le piccole discussioni nascono proprio dal non riflettere che la vita ci può cambiare da un momento all'altro quindi io io vedevo i bambini guardavo i miei figli e i primi giorni non riuscivo a trattenere l'emozione mi veniva da piangere perché comunque ti immedesimi poteva succedere a noi viva la democrazia dico sempre va bene io la ringrazio tanto per la testimonianza per l'onestà con la quale ce l'ha raccontata per la trasparenza con la quale ha condiviso con noi in bocca al lube buon lavoro grazie e grazie grazie a voi buona serata la nostra macchina dell'accoglienza è in moto la terza commissione si riunisce in concadenza settimanale per fare da cabina di regia i prefetti sono oggi attivi non abbiamo ancora una stima esatta del flusso in entrata al momento sono in gran parte ricongiungimenti familiari le strutture regioni sono tutte attivate Molfetti è stata tra le prime comunità ad accogliere? Molfetta attualmente se non erro accoglie una quindicina di profughi prima 5 poi altri 10 in alcune strutture comunali altre in case parocchiali e da sempre è stata è preparata anche perché ha accolto profughi diciamo anche in passato quindi ha delle strutture già pronte ma credo che la Puglia nella sua interezza sia una terra di accoglienza quindi siamo pronti abbiamo fatto anche un incontro con tutti i consiglieri regionali con il presidente Emiliano per organizzare la macchina regionale il presidente Vizzino e sul pezzo insieme all'assessore Barone e credo che diciamo questi siano i momenti organizzativi perché purtroppo il peggio deve ancora venire e avremo i risultati gli esiti purtroppo negativi di questa guerra di questa aggressione tra qualche giorno se non tra qualche mese e non sappiamo quanto durerà questo è il problema vero so che è una sterzata ma dalla regione mi hanno appena detto quanto manca i titoli di coda e allora necessariamente quasi brutalmente vorrei fare un passaggio politico in chiusura in quel di Molfetta si vota si vota tra brevissimo il suo passaggio in maggioranza dal centro ritorno l'ha detto Michele Emiliano quanto sposta quanto avvicina al bis Tommaso Minervini per esempio il bis di Tommaso Minervini dipenderà dalla città dai cittadini se vorranno votare Tommaso Minervini se riceverà di nuovo la fiducia come spero per un'altra sessione anche perché veniamo da un periodo del covid da due anni di mobilismo ora abbiamo pure la guerra e ci servono persone capaci competenti ed esperti della macchina amministrativa non abbiamo purtroppo non possiamo oggi iniziare un percorso con persone che non hanno queste esperienze che mi sembra quasi una benedizione presa larga però mi sembra quasi la domanda sarebbe voi una mano gliela date voi ogni territorio ha le sue peculiarità quello sempre ci sono si vota a Tarlizzi a Bitonto a Giovinazzo parlo del nord barese a Molfetta poi c'è Barletta Taranto Castellana Gravina e così via su ogni territorio ci sono diciamo delle peculiarità per cui troveremo delle liste con qualcuno altri con altri ma per la Puglia fa schiere il simbolo in lista già alle comunali? per la Puglia in alcuni comuni presenterà diciamo il proprio simbolo soddisfatto di come si sta muovendo il centrodestra alle comunali? abbiamo i candidati di Barletta e di Taranto in un caso è una storia eminentemente a sinistra nell'altra socialista di lungo corso che però schiera i simboli del centrodestra l'ho già detto in questa trasmissione io non credo più nello schema classico centrodestra centrodestra per quello glielo ho richiesto oggi che abbiamo i candidati soprattutto sui territori perché alla fine sui territori vanno ricercate le competenze persone che sono in grado di mettersi insieme intorno a delle progettualità e delle prospettive quindi lo schema classico del centrodestra sia a livello comunale che a livello regionale non fosse altro per i diversi sistemi elettorali che ci sono rispetto a quello nazionale non può più non ha più ragione di esistere ecco perché hanno fatto bene a Taranto a pescare dall'altra parte l'idea di Taranto è vediamo se la scelta è giusta la persona mi sembra una persona capace adesso bisogna capire come reagiscono i territori il sindaco uscente è un sindaco abbastanza forte è stato mandato a casa di solito quando mandi a casa un'amministrazione non è mai vista di buon occhio dai cittadini non porta bene mandare a casa l'amministrazione rischi sempre l'effetto boomerang rischi l'effetto bull la verità è che le città oggi hanno bisogno di essere governati i soldi sono tanti ha bisogno di gente che ha qualità competenza e io ci metto un'altra parolina sobrietà sobrietà noi siamo grandi tifosi dell'oprofile sempre domani in aula c'è anche la proposta di commissione d'inchiesta sul covid targata Fratelli d'Italia l'ho detto in consiglio regionale lo ribadisco qui per me la commissione d'inchiesta non è utile abbiamo la prima commissione quella bilancio che sta lavorando egregiamente sulle verifiche sia sulla questione covid sia sulla questione ospedale in fiera ritengo che la commissione d'inchiesta a livello regionale non sia assolutamente utile prima di chiudere doveste tracciare un punto sull'agenda riascoltando quella conferenza stampa è il mismatch delle competenze dateci ragazzi ma soprattutto dateci la possibilità di formarli perché le aziende servono altro discorso basterebbe una trasmissione intera quella del mismatch delle competenze io vorrei lasciarle questo tipo di messaggio se mi permette la questione dell'industria della manifattura è una questione importante che va affrontata sia a livello politico che a livello istituzionale che a livello sociale la manifattura dell'automotive va rappresentato per il sistema pugliese parlo di Puglia perché l'automotive va coinvolto da Foggia a Lecce a Bari in maniera totale va affrontata in maniera strutturale con una capacità di programmazione di visione che siano adeguati con la capacità di accogliere le multinazionali che stanno continuando ad arrivare che stanno continuando a guardare il nostro territorio con molto interesse ma va messo in atto un esperimento come quello che si è fatto per il tavolo di crisi il tavolo di crisi gestito in maniera egregia ma quando la situazione oramai è persa va gestito in maniera di programmazione quindi la regione deve istituzionalizzare un tavolo industriale che faccia politiche industriali in maniera adeguata composto in maniera eterogenea da rappresentanti del sistema industriale del sistema scientifico del sistema politico del sistema istituzionale in maniera quindi eterogenea che sappia che conosca il territorio adeguatamente che accolga le multinazionali non solo per dargli dei soldi per pagare le maestranze ma per fare filiera per mettere i dati prima che arrivino e non dopo per fare filiera ma non è un problema di paletti perché se si fa una programmazione adeguata si fa filiera si fa costruire il territorio non servono nemmeno i paletti in politica si dice che quando non ci sono le soluzioni si aprono i tavoli la speranza è che un tavolo così possa funzionare ma non abbiamo il tempo tecnico per discutere dalla regione ma hanno già richiamato all'ordine e allora ringrazio entrambi i capigruppo grazie presidente grazie a chi si è collegato grazie a voi per averci scelto anche di lunedì 7 giorni 7 e poi torniamo buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti